...i musicisti di questo primo brano, CQN è il titolo del brano, che è stato composto in buona parte dal nostro giovanissimo Diego, che è lui... Quanti anni hai Diego? Nove. Nove anni eh? Abbiamo, sentirete la prima composizione di un nostro allievo di nove anni. Allora, abbiamo appunto Diego alla chitarra, Daniele alla chitarra, Anthony alla batteria, aiutato dall'insegnante Stefano, e Alessia al basso, che è con noi da proprio pochissimo. Quanto è che studi da noi? Da quest'anno. Esatto. Quindi abbiamo... Abbiamo il saggio proprio dei nostri più freschi e giovani allievi. Allora, mentre le ultime... Le ultime... Le ultime dettagli tecnici vengono appunto espletati, io vi lascio in compagnia di CQN, con Diego, Daniele, Anthony e Alessia. Si è piaciuto tutto di lui? Si è piaciuto tutto di lui? Acqur사... Cevanno... Quacquino... C'è molto, ecco... C'è molto importante... Dai... iani... Soda già 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 Soda già